Per quanto mi riguarda avrei voluto nascere sulla luna o in qualsiasi altro pianeta, altrove infatti non sarebbe andata peggio di come è andata qui. Per anni ha subito saccheggi della camorra, aste andate deserte, destinato a diventare sempre più un rudere. E ho preso un'ossessione per togliere le stimondizie, pensavo che cercava di salvare la legge di Caldera, come volontariato. Si vengono a cancellare, quando si apre, quando si apre, non si apre mai. Perché è giudice, non fai mai permesso. In un mondo che ci nega l'anima, essere un bufalo è un'arte. Lui che veniva dall'ignoto, aveva le fattezze dei Pulcinello, che fino dall'antichità ascoltavano i morti per parlare ai vivi. Bello, sai che vuoi c'è? Ma che vuoi rimanere qua? Ma che vuoi rimanere qua? Grazie a tutti.